Ruben era lì Ruben era lì io sono sempre lì è sempre lì è sempre lì lì arriva al posto ecco Ruben è uno di quelli arriva al posto che la diceva mi butto? no perché la neve è che non la muoio mi ributto? no perché c'è c'è il grano con il grano arriva lì Ruben ho visto un video di zucchero ubriachissimo lo devi vedere il zucchero si è ubriacato con un amaro? era marzo diceva con zucchero si è ubriacato con un amaro? no con un dolce allora c'era lui che diceva c'era lui che si è al concerto c'era una gatta un telefono una gatta un telefono allora lui si incazza non so perché si incazza e guarda lì cos'è che stai? il telefono era lì era una gatta un videochiamata allora lui si cassa vedi questa ragazza con i mondesai i mondesai che parola è? i ragazzi i mondesai i scaffali i mondesai i scaffali brutti scaffaloni dimmi insulti assurdi scaffaloni armadio schifoso armario ma perché? perché parlava al telefono? no questa ragazza stava parlando al telefono a suo concerto lui si era incazzato l'ho capito e devi insultarla così scapparla scapparla armadio schifoso si ma così dagli del telefono dopo finisce si mette nelle bottiglie allora ci vede che cassa il pubblico che suolta zucchero zucchero queste bottiglie che aveva di vetro di sale da lui che aveva da dietro che lancia queste bottiglie come nervoso il gruppo di umeli a zucchero no zucchero a lui ma lui era nervoso incazzato perché? perché c'era sta ragazza che c'era questo ragazzo con lei non con gli altri che cazzo c'entrano le altre? ma lui è così ma si è ammareggiato o zucchero? come si fa a ammareggiare il zucchero? lui che è bello lui viene dalla valpa d'agno a zucchero ma lui è dolce il zucchero è dolce non si può vabbè come mangiare il mascarpone salato salato no non si può perché non monta e monta non monta eppure i monti non l'hanno montato pure lì e lì eppure i monti c'è e lui si io l'ho montato no chi lo vuole nessuno lo so l'hanno montato è montato con la frusta non so com'è con la frusta ma infatti Mussolini eh se c'era Mussolini guarda che c'era voi Mussolini ha detto c'era Monti Monti e c'era poi a fare il grano e lì arrivava lui e lui si fa lui se lo fa il grano si fa il grano viva il legno batto con il legno perché poi lui non si arriva non riesce a capire cosa ha detto però fa delle frasi e gli dico oh che madonna guarda che uno come te si crede oh 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 sultana madonna guarda lui inizialmente è fantastico perché fa delle frasioni della madonna e poi è cominciare un tornado di bellezza e poi arriva lui che è brutto pur affetto un tornado di bellezza arriva lui che fa boom boom io no lui che è un tornado di bellezza non parla di tutto è lì prenda tutto le prenda tutto